Ciao dolcezze, ciao a tutti, allora davanti alla finestra c'è un po' di sole oggi, nuovo video ASMR, faccio un po' di tapping richiesto da Michelle Avola, voglio salutare Enza tanto che me l'ha richiesto D'Apostro Quanto e Teodora Tolipano, poi farò magari anche una rubrica tra virgolette di ricette sussurrate anche se io devo ancora imparare a fare tante ricette quindi ne so fare ancora poche di ricette diciamo che sto imparando a cucinare ma da pochi anni sto cucinando insomma, comunque questa rubrica di ricette sussurrate me l'ha richiesto Rosa Caputo e se riesco lo faccio se vi interessa soprattutto, adesso oggi facciamo il tapping un po' di tapping su alcuni oggetti che ho scelto, che ho preso, ok, che mi è stato appunto richiesto questo video da Michelle Avola, o Avola, Avola penso si dica, correggetemi se sbaglio, ciao a tutti, video molto molto breve sicuramente faccio anche un po' di scratching perché su questa scatola diciamo che richiede anche di fare un po' di scratching, quindi tapping e scratching e anche qualche mouth sounds che mi è stato richiesto da Ginevra Ginevra, ciao a tutti, ciao Ginevra, ciao Michelle, tapping e scratching e mouth sounds quindi un po' di suoni, spero di accontentare tutti quelli che mi hanno fatto richieste e ho salutato le due ragazze che mi hanno richiesto di essere salutate, ciao a tutti, buon relax grazie a tutti ho poche unghie quindi non so se viene bene col tapping, cioè il tapping forse con le unghie lunghe viene meglio con le unghie lunghe viene meglio, questa palette bellissima bellissima c'è il polline fuori, scusate se guardo fuori ma dovrei vivere al buio, ma non guarda fuori grazie a tutti 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 Questa è un'acqua profumata Quella che vi dicevo che ho da finire E' del DM C'è anche gialla verde Arancione Sì, credo Arancione Sì, verde L'avevo comprata anche verde Molto valida, ve la consiglio Fuchsia Love Costava 2 euro Adesso costa 3 euro Vabbè Comunque mi piace questa qui Bella fresca E' molto dolce Sa quasi di lamponi di more Facciamo un po' di tapping Su questa bottiglia Di plastica E' molto dolce E' molto dolce E' molto dolce E' molto dolce E' Konk la del profumo che mi aveva regalato mio padre forse l'anno scorso, se non sbaglio a Natale, che piace tanto a Nicole Nicole, ecco gli ho spostato il profumo anche sopra questo è, se volete comprarlo lo trovate da Limoni Profumeria o da Modus, non mi ricordo The Merchant of Venice mercante di Venezia e ha tutto questo packaging con le stelline bellissimo, il profumo ve lo faccio vedere nel parattolo è olografico con la luce del sole fa tanti bellissimi riflessi questo e quel profumo grazie papà, anche se lo ce l'ha ringraziato facciamo il tapping su questa scatola, bellissima grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Ciao Vanessa. Tracing, parole in aria, scrivo parole in aria, il prossimo video sarà quello, magari nella stessa location di oggi, scusate, vabbè, ventilatore. Nella plastica. Nella plastica. Scratch, 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 scratch. Sembra quasi questo, un fast ASMR, perché parlo veloce. Fast, fast, fast. PAFAFAX Puff, 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 a presto, buon relax, buonanotte, buona giornata, tic 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 tic.